E si facevano tutta la prova in piedi e allora provavano sezione per sezione, i bassi imparavano tutta la parte, i barifoni imparavano tutta la parte. Quest'anno è il settantesimo anno per il coro Trecime, è un grande traguardo. Iniziamo i festeggiamenti con un invito bellissimo, quello del CAI e del Beata Grasso. La superbe montagne, tra posti e palli d'occhio, la superbe montagne, tra posti e palli d'occhio, Tra la sverugge e cheggia, un cantico d'amore. La superbe montagne, tra posti e palli d'occhio, e cheggia, un cantico d'amore. La montanara web si sente cantare, Cantiamo la montanara web si sente cantare, Con il CAI c'è una storia appunto che risale a 70 anni fa. Nel 1954 il coro è nato proprio per iniziativa di un gruppo di persone amanti del canto e che facevano parte del CAI di Beata Grasso. che il Signore termina fuere, che il mio vento è mi paese. La prima serata per il vostro settantesimo, che è un pochino anche il nostro. Cioè l'obiettivo di questa serata è anche un po' ricostruire la storia del coro, che in modo molto puntuale e preciso c'è sul loro sito. Però vogliamo cercare di andare a trovare quei punti di storia che abbiamo in comune nel corso di questi 70 anni. E chissà poi alla fine ti chiederò anche per il futuro, insomma un impegno, perché i nostri 80 anni saranno fra due anni. Intanto sfidiamo il Festival di Serreno. Ah già è vero. Noi proprio stasera, incuranti di ogni pericolo, siamo l'alternativa corale al Festival di Serreno. Quindi buon concerto e buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.